L'operazione è rilevante non solo per il notevole valore dei beni confiscati, ma per la ricostruzione dei passaggi fiscali e societari che hanno permesso di emettere la sentenza di confisca. Il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Caffiero de Rao, si è espresso così in merito alla confisca da 324 milioni di euro all'imprenditore Vincenzo Livieri, fratello di Antonio, ex vicepresidente del Pescara sotto la presidenza Sibilia, estraneo però ai provvedimenti di questa mattina. La DIA, su ordine del Tribunale di Prevenzione di Reggio Calabria, ha confiscato quote in 15 società, 88 immobili, alcuni anche in Abruzzo, oltre a 7 autoveicoli e 385 titoli comunitari, aiuti all'agricoltura per un milione e mezzo di euro all'anno. In più, confiscati svariati conti correnti societari e personali di Vincenzo Livieri, un capitale valutato in totale in 324 milioni. L'imprenditore calabrese, 62 anni, ha interessi nel settore oleario, ma anche nel comparto alberghiero, in quello immobiliare e dei servizi, sia in Calabria ed in particolare nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Catanzaro, sia in Abruzzo e in Toscana. Per l'accusa ci sarebbe una sproporzione tra i redditi dichiarati e percepiti di Oliveri, un patrimonio accumulato nel tempo considerato frutto di attività imprenditoriale illecita. Il gruppo Oliveri, ha detto il capo del centro della DIA, colonnello Gaetano Sciglia, ha tentato di alterare i risultati economici denunciando, per esempio, una resa produttiva di 10 volte superiore alla qualità media dei loro terreni, ottenendo la possibilità di ricevere dalla GEA contributi per 1,6 milioni di euro all'anno. Ed ancora 85 milioni percepiti grazie alla 488, 15 milioni dell'ex AIMA, in tutto 100 milioni in contanti, un giro vorticoso di affari che però era sempre sfuggito ai rigori della legge grazie alle prescrizioni intervenute, ha detto Sciglia. Questo è solo il primo atto di una battaglia legale che si annuncia a lunga. Gli avvocati Giuseppe Fonte e Salvatore Staiano, legali di Vincenzo Oliveri, hanno sottolineato come nel caso di specie non si sia trattato di una misura di prevenzione patrimoniale applicata ad un soggetto ritenuto colluso con gli ambienti dell'Andrangheta, ma di una confisca applicata nei confronti di un soggetto cosiddetto genericamente pericoloso.